E' questa la verità. Come Willy Tybur ha appena spiegato, io sono un vero cattivo. Potrei distruggere addirittura mia madre. Ma in passato anche voi mi eravate sembrati mia madre. Perché Rainer? Perché mia madre è stata divorata da un gigante. Questo è successo. Perché Rainer? Perché quel giorno abbiamo fatto sesso nelle mura. E perché lo avete fatto? Volevamo infiltrarci in mezzo alla confusione. E perché? Per osservare i movimenti del re delle mura. Qual era la vostra missione? Riprenderci il fondatore per poter salvare il mondo. Perché Rainer? Se l'obiettivo era salvare il mondo, allora... hai solo fatto ciò che dovevi. Ricordo ancora le tue parole. Sei venuto qui per questo, è così? Oh, ho detto davvero una cosa simile. È vero, in effetti, è vero. Pensavo che chiunque si trovasse al di là del mare fosse mio nemico. Però adesso ho attraversato quel mare. Ho dormito sotto il mare. E mangiato il mare. Rainer, io sono il mare. Sassu, dentro mia madre. Siamo tutti uguali. Ma a voi hanno insegnato che le persone dentro le mura sono le persone dentro le mura. Dimmi un po', Rainer. Sassu, ti prego, uccidimi. Tutti noi apparteniamo a tutti noi. E quindi... Sesto, vedrete che unendo le nostre forze, potremo oltrepassare qualunque ostacolo. Sì, io sono come te. Te lo posso giurare. Concedetemi la vostra paura e tutti insieme combatteremo contro i demoni dell'isola di Paradis. Siedelo! Forse è sempre stato così fin dalla nascita. Continuerò comunque ad avanzare. Fino allo stermine... Fino allo stermico... Fino allo stermico... Fino allo stermico...